Una serata d'incontro con i candidati alle prossime elezioni politiche l'ha organizzata l'Associazione Nazionale Commercialisti Sede di Ferrara. Il presidente NC Ferrara Alberto Carione, il presidente NC Nazionale Marco Cuchel e il vicepresidente di Confimi Industria Flavio Lorenzin hanno esposto ai politici intervenuti i problemi e le richieste della categoria e dei territori, commercialisti che il 7 febbraio scorso hanno presentato un vero e proprio manifesto alla stampa e alla politica. L'obiettivo che ci eravamo posti inizialmente il 7 febbraio a Roma è stato riproposto su scala locale qui a Ferrara in una sede istituzionale come la Camera di Commercio. Abbiamo avuto la presenza di tanti candidati di 8 schieramenti politici e sicuramente con interventi che hanno dato una certa garanzia al documento che avevamo dato loro e loro hanno dimostrato effettivamente di averlo studiato e di averlo compreso. Quindi possiamo dire che è stato sicuramente un intervento che per la nostra associazione come dire di soddisfazione. Poi è chiaro che al momento che entreranno o non entreranno e si siederanno in Parlamento bisognerà poi vedere se metteranno in atto quello che hanno promesso davanti a questi microfoni, davanti a questo evento. Siamo veramente contenti dell'iniziativa di Ferrara ma di quelle che l'ANC con Confimi sta facendo su tutti i territori nazionali proprio per far vedere le istanze della categoria dei commercialisti e delle imprese alla politica per avere un fisco migliore, un fisco più equo e ristabilire i giusti rapporti appunto tra fisco e contribuente. L'obiettivo principale del manifesto è quello di elevare lo statuto del contribuente al rango costituzionale. Quello è il primo punto del manifesto, è un obiettivo che noi ci siamo posti come associazione nazionale commercialisti da circa 14 anni e che crediamo che sia la base di tutto un nuovo rapporto del fisco. La necessità di avere una riduzione del costo della produzione, avere un fisco equo ma soprattutto un fisco che non sia iniquo rispetto ai contribuenti e ho citato gli esempi dell'IVA che dovrebbe essere per le imprese un semplice strumento di incasso e pagamento allo Stato, invece di fatto noi dobbiamo versare lo Stato l'IVA tutti i mesi e in caso di fallimento di uno dei nostri clienti la possiamo recuperare solo dopo la fine del periodo fallimentare. Per ultimo abbiamo chiesto che lo Stato non usi più le imprese come Bancomat perché di fatto continuano a emettere norme retroattive, norme spot per predoare soldi e per coprire i loro buchi di bilancio. All'incontro hanno partecipato candidati di otto diversi partiti e movimenti politici. Il fisco è lo strumento in ogni paese civile, chiunque lo governi, il fisco è lo strumento con cui una comunità finanzia i suoi beni comuni. In Italia io ricordo che la spesa sanitaria è sostenuta dalla fiscalità, la spesa dell'istruzione è sostenuta dalla fiscalità, tutti gli investimenti pubblici sono sostenute dalla fiscalità, le risorse per la sicurezza sono sostenute dalla fiscalità, quindi è evidente che il fisco è centrale da questo punto di vista, io penso che non siano realistiche e siano invece veritarie proposte come la FLECTAX che propongono una drastica riduzione di aliquota fiscale. Con il contencioso tributario si deve ispirare più possibile il funzionamento della commissione tributaria a quello che è il tribunale ordinario, quindi ammettere per quanto riguarda il giudizio anche le prove testimoniali e creare ovviamente anche una essenzione per quanto riguarda il pagamento dei tributi, per quanto riguarda il contenzioso, nel senso che il contribuente quando riceve un accertamento fiscale nel momento in cui ricorre deve pagare un terzo d'imposta. Noi riteniamo che questo deve essere abolito e che l'imposta come con le sentenze di primo grado può essere ritenuta esecutiva dove è l'emissione della sentenza di primo grado. Ci sono alcuni punti sui quali ci possiamo trovare d'accordo in materia di semplificazione ma certamente noi ci spingiamo oltre. Siamo per l'abolizione dello spesometro, del redditometro e di tornare all'inversione dell'onere della prova in materia tributaria e riportarlo in mano all'agenzia delle entrate, non certamente al contribuente e toglie gli studi di settore. La necessità di un forte shock nei confronti della nostra economia che può essere data soltanto da una riduzione della tassazione che possa consentire la ripresa dei consumi, degli investimenti e quindi la ripresa del PIL che come voi sapete ancora oggi nonostante tutto siamo gli ultimi in Europa. Questo può avvenire secondo noi attraverso la istituzione della cosiddetta flat tax o aliquota unica per parlare in italiano, cioè fatto salvo una no tax area di 12 mila euro, una tassazione uniforme per tutti i redditi nella misura del 23%. Una flat tax è una proposta sostenibile che va in direzione della nostra Costituzione in quanto rispetta l'articolo 53 della Costituzione stessa. I minibot, sappiamo che lo Stato è un cattivo pagatore, sono 70 i debiti e quindi i crediti dei cittadini che potrebbero subito essere messi in circolazione. Si tratta di banconotte di taglio piccolo, 5, 10, 50 euro da erogare da parte dello Stato ai cittadini da poter utilizzare per le loro spese e ovviamente oppure pagare le tasse. Vogliamo revisionare i parametri ministeriali per l'eco compenso ma anche istituire lo statuto dei lavoratori autonomi. Estendere a tutti i libri, i professionisti e gli autonomi l'assistenza sanitaria integrativa consentendo la deducibilità parziale dei contributi versati. Promuoveremo inoltre i processi aggregativi tra i professionisti e valorizzeremo il ruolo della sburocratizzazione della pubblica amministrazione. La ploriferazione di leggi, di norme, la decisione a volte di renderle retroattive ha creato confusione e sicuramente inequità. Le proposte dei commercialisti, quelle che oggi ci hanno proposto alla nostra attenzione, alla discussione, mi sembra un buon inizio, una parte, una base su cui cominciare a lavorare e a discutere. La rimodulazione dell'IRPEF con aliquote più progressive e scaglioni maggiormente semplificati con fasce di esenzione sulla prima fascia appunto. E siamo convinti che in questo paese vadano tassate soprattutto le grandi transazioni finanziarie e i colossi del web che unitamente assunti pagano all'erario, versano all'erario meno di ciò che versa un'impresa media italiana.